Prima un omaggio alla memoria di Piero Angela che dell'Associazione per il Progresso del Paese fondata dall'Ella e Alfredo Ambrosetti è stato un convinto sostenitore. Poi uno sguardo a una platea virtuale almeno quanto sbalorditiva per qualità e autorevolezza di rilievo internazionale. Quindi spazio alla relazione del giorno affidata al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, protagonista di quello che Alfredo definisce il lavoro disumano, viste le tante responsabilità assunte e le molte magagne ereditate. Impegno effettivamente tosto che il diretto interessato liquida con una battuta quando dice che durerà ancora poco, data la scadenza ormai prossima del governo Draghi, aggiungendo però che al premio ruscente verrà probabilmente assegnato un incarico di alto livello su scala europea a dimostrazione del prestigio di cui gode e dell'importanza che riveste sullo scacchiere internazionale. Ma quello organizzato dagli Ambrosetti e moderato da Andrea Rittatore e Von Willer non è certo un appuntamento formale. Giorgetti entra subito nella carne viva del presente quando profetizza un diluvio economico che potrà essere contrastato solo tendendo una mano all'economia reale, cioè a quelle imprese che costituiscono il tessuto nevralgico del sistema paese, ieri fiaccato dalla pandemia, oggi massacrato dal caro Bollette. Il problema, incalza il ministro, inizia ben prima della guerra russo-ucraina e affonda le radici nella spaventosa fame di energia della Cina. Va affrontato con l'immediata revisione delle regole europee cui fanno capo le tariffe e in tal senso in serata arriva la doppia apertura dei vertici UE sul tetto ai prezzi e sulla distinzione tra gas e altre fonti in linea con la visione giorgettiana. Noi dobbiamo passare da una fase in cui avevamo fondamentalmente circa il 40-50% dell'energia che arrivava in modo diretto o indiretto da gas russo a gas algerino, GNL e alternative. Quando questo sarà completato come ciclo per emanciparci dal gas russo io dico alla fine del 2024. Non significa che nel 2024 produrremo solo con energie rinnovabili. Ci saranno energie rinnovabili e gas ma non russo, tanto per intendo. Dopodiché occhi puntati sul piano nazionale di ripresa e resilienza che scandisce Giorgetti dovrà essere adeguato alle nuove esigenze ma anche sulle temute tensioni sociali dettate da un mix micidiale di povertà galoppante e contraddizioni sclerotizzate. Noi possiamo dire che posiamo la banda larga in tutta Italia, a tutti i cittadini italiani, ma se non abbiamo imprese che scavano e posano la fibra e soprattutto queste imprese non trovano scavatoristi perché si rifiutano di fare lo scavatorista, perché preferiscono prendere il cittadinanza, è impossibile raggiungere gli obiettivi del PNR. Abbiamo sulle opere pubbliche, in particolare quelle ferroviarie, ma non solo. Ahimè, i prezzi definiti nel PNR che vanno a gara sono dei prezzi non più remunerativi e quindi in qualche modo devono essere rivisti. Infine, un appello ai prossimi inquilini di governo e Parlamento. Rispetto a una campagna elettorale in cui fioriscono polemiche sul nulla, promesse più congruenti non al diluvio ma alla giornata di sole, ecco, io credo che quello che dobbiamo augurarci, l'ho detto anche al meeting di Rimini, è che quando finirà la campagna elettorale il 26 settembre un po' tutti i protagonisti tornino sulla terra e in qualche modo rientrino in quello che deve essere il ruolo del politico e cioè quello di assumersi le responsabilità anche se magari al momento impopolari. Insomma, quello in collegamento da Roma con polo sportiva e sfondo ministeriale è un Giorgetti più tecnico che politico, molto istituzionale e poco appassionato alle schermaglie di una campagna da cui sembra coinvolto più per abitudine che per volontà.